Città di Arezzo, quanto gli onorevoli che sei, reggitori della nobilissima città di Arezzo, invitano tutti della città e del felicissimo contadio, nobili e popoli, gente di lettere e editoria, mercadanti e tartieri di ogni arte, al torneamento della giostra del Saracino, che Saracoccia oggi, due toti dopo ora ventunesima in Piazza Grande, agli ordini del magnifico maestro di campo, dai cavalieri dei quartieri, contro un simulato che figlia, tra gli soldani di Babilonia, l'Egitto, l'Imerzia, la figura di Murato, rete dell'India, a confusione e ludibrio grandi di tutti gli infedeli nemici di cristianità, etta maggior gloria e d'onore del divo donato, patrono nostro ed è contadio, impetratore di grazie e benedizioni, correranno i cavalieri degli quartieri di Porta Sant'Andrea! di Porta Crucifera! di Porta Santo Spirito! c'è la chiamata di Porta Sant'Andrea! di Porta Sant'Andrea! Grazie.